L'Europa Vini, teatro e basket non si ferma più. 72 a 56 a Corato, in casa a coach Piero Cohen, sostanzialmente una partita controllata dall'inizio alla fine. Sì, devo dire che temevo molto questa gara, perché noi troppo spesso ci facciamo ingannare i giocatori per primi a volte dalla classifica. Corato secondo me è una squadra che vale tutte quelle che vanno appunto da Corato a salire, per cui la temevo molto. E' una squadra che ha grande potenziale offensivo e quindi ancora di più averli tenuti a 56 punti, per me di grande soddisfazione, di grande gioia. Avevo chiesto ai ragazzi di fare un passo in avanti ancora di più in difesa, perché abbiamo bisogno di migliorare e aumentare la tenuta mentale a livello di atteggiamento, a livello di energie nervose, che questa squadra magari prima palesava un pochino ad avere. Credo che comprensivamente da questo punto di vista qui siamo cresciuti. Abbiamo vinto le gare grazie sempre a una difesa alla fine sempre coriacea, insomma attenta, anche tatticamente stiamo crescendo. Quindi è una vittoria secondo me contro Corato importante, perché poi lo vedremo a fine anno, Corato farà sicuramente tante vittorie secondo me. Chiedo una cosa per chiudere da parte mia, si entra nel vivo del mercato, questo agli allenatori piace poco, perché distrae un po'. Chiede qualcosa alla società? Ma è evidente che si può migliorare, però è anche evidente che il mercato non offre niente e quindi diventa complicatissimo tutto, no? È un mercato che sembra essere proprio asfittico, non ci sono giocatori che si muovono. Poi qualsiasi allenatore, qualsiasi squadra ha bisogno sempre di qualcosa, è difficile trovare un allenatore che non voglia avere un correttivo, questo è fuori discussione. Io credo che se ci sarà la possibilità lo valuteremo con la società. Anche oggi abbiamo dimostrato, come ha detto Cohen poc'anzi, di avere una difesa molto robusta, forte, tant'è che le squadre avversarie non riescono a fare tanti punti con noi. La squadra si sta chiaramente affinando e seguendo le direttive di Mr. Cohen, quindi da qui alla fine ne vedremo delle belle. Sono molto fiducioso che questi ragazzi possano regalarci delle grosse emozioni. Il mercato chiede, diceva Cohen ai nostri microfoni, qualcosa potrebbe servire anche se non c'è nulla? Non c'è nulla ma siamo attenti, siamo attenti perché qualora dovesse nascere qualcosa di interessante, di importante per noi, noi ci saremo.